buongiorno a tutti un saluto dalla dimensione delta proseguiamo con la nostra presentazione delle storie più belle di topolino per secondo me oggi vi parlerò di una storia scritta da giorgio pezzin e disegnata da romano scarpa topolino è il fantastico tokamak una storia pubblicata nel numero 1459 di topolino del 13 novembre del 1983 e che avevo fatto ristampare nel 2009 su questo libretto della iniziativa topolino gold che consentiva di scegliere le storie preferite da ristampare dato che questo volume è lucido preferisco mostrarlo sul topolino originale tra l'altro andatevi a recuperare diverse interviste con giorgio pezzin sia sul canale di fisbio sia sul canale di di manuel di 8 bit perché vedrete che persona di grande cultura e di grande impegno anche nella sua preparazione per la sceneggiatura delle storie e scoprirete anche interessanti aneddoti su quello che è il lavoro questo con tutte le interviste ma lì analisi molto dettagliata di quello che è il lavoro dello sceneggiatore di fumetti ecco passiamo questa storia topolino e il fantastico tokamak il tokamak sostanzialmente è un generatore di energia a fusione nucleare di piccole dimensioni un progetto che è stato teorizzato ma in realtà finora mai realizzato in genere le storie di pezzin a sfondo scientifico sono documentate insomma dalla lettura di articoli ben preparate in questo caso la storia inizia con topolino e gancio brutto personaggio di scarpa infatti la storia disegnata da scarpa tra l'altro uno dei miei personaggi preferiti che assistono ai notiziari notiziari con guerre carestie una serie altri problemi topolino nervosisce basta non voglio più sentire queste brutte notizie sbatte la pola testa contro il maniglia poi prosegue nella visione di questo telegiornale che presenta o un ufo che orbita intorno alla terra che non come una piramide nera ecco che poi i vari politici mondiali litigano per chi deve andare a visitare a vedere questo manufatto alieno cercando di capire che cosa possa contenere alla fine viene disegnato topolino per per topolino e viene invitato ufficialmente una breve preparazione al centro spaziale gancio brutto anche lo accompagna ed ecco che partono con uno space shuttle riprodotto con una certa fedeltà con i tre i tre razzi propulsori insomma i due booster e il razzo che viene sganciato diciamo l'ultimo stadio che viene sganciato e infatti qui si vede il volo insomma con finché si libera dei serbatoi e accedono brutto e topolino in questa piramide e notano che con alcuni disegni insomma contengono una sorta di rifornimenti per mangiare per dormire per in grande quantità semi che non hanno bisogno di fertilizzanti insomma si rendono conto della grande quantità di oggetti lasciati forse come scialuppa di emergenza insomma per astronavi in avaria ecco che poi tornati sulla terra lo annunciano e si organizza la spedizione per andare a recuperare questo materiale tra cui si trova questo tokamak questo generatore di energia non dico infinita ma comunque sufficiente a fa bisogno della terra per moltissimi anni quindi viene messo in funzione così come vengono poi diciamo distribuite le altre le altre meraviglie tecnologiche tra cui pillole che sostituiscono il cibo e piante che danno raccolti nel giro di un giorno e così si si avvia diciamo la prosperità non è più necessario il petrolio ma anche i petrolieri possono stare tranquilli perché non hanno più bisogno del denaro guadagnato dal petrolio per poter vivere e così si inaugura un periodo di prosperità in tutta la terra nella quale però le persone smettono di lavorare i negozi chiudono cominciano ad impiegherersi a un certo punto però il tokamak sparisce e quindi ovviamente bisogna di nuovo andare a cercare di capire se si può recuperare tutti che di nuovo politici che di nuovo litigano tra l'altro tra le meraviglie trovate all'interno dell'astronave della piramide c'erano anche delle pillole per aumentare la cultura e l'intelligenza quindi vari politici così come una parte della popolazione della terra sono diventati più intelligenti ma non meno litigiosi quindi litigano diciamo sfoggiando anche la loro cultura ma litigano quanto prima insomma così anche ladro che riesce a rubare insomma si doveva essere acculturato perché per avere conoscenze per staccare un generatore nucleare che alimenta l'intero pianeta e così topolino prepara un piano per andare suppone che possa possa il tokamak possa essere stato riportato sulla nella piramide infatti verificano che c'è stato un viaggio dello shuttle ne preparano uno anche loro topolino e bruto e si nascondono nel serbatoio e con ossa buona perché avevano approntato questo nascondiglio infatti lo shuttle viene istrutto e scoprono che gamba di legno aveva rubato il tokamak così riescono poi a mettere fuori combattimento lui e il suo complice quindi verificato che si trovava lì tornano sulla terra danno l'annuncio ma a questo punto ovviamente nessuno si mette d'accordo per poterlo riutilizzare e quindi non viene riportato a terra ma nel frattempo topolino si rende conto di aver sbattuto la testa e torna a vedere il notiziario dice oh ma non è passato niente allora insomma ha sognato tutto vabbè e così vede che il manufatto alieno che era stato comunque realmente annunciato esplode e qui la riflessione sul fatto che chissà cosa ci fosse chissà se c'era davvero quello che lui aveva sognato ma in ogni caso non saremmo stati pronti e per questa storia è tutto un saluto a tutti e buon anno